Sei pronto? Si 2 1 Via Salute Ci sta nel video eh Ecco, ci sta tutto Tutto l'altro Tutto l'altro Usa più l'anca, usa l'anca Dai dai, non mollare, hai l'addome e il gluteo Usa l'anca, spingi giusto queste gambe Ma coglione Ma coglione Dai 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 Giro dei 14 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 12 12 12 13 4 4 4 4 3 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 8 8 9 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10